signore e signori oggi ci troviamo nella seconda metà degli anni 80 e stiamo per parlare di una delle band più influenti sulla scena del rock alternativo in particolar modo possiamo definire questo disco figlio del punk e genitore del grunge sto parlando dei pixies il disco in questione è surfer rosa del 1988 in sostanza questa band riesce a trovare una sintesi e un equilibrio fra tante sfumature della musica rock che in quel periodo si stavano esaurendo riescono ad essere piacevoli e fastidiosi semplici ma incomprensibili la produzione di questo disco viene affidata a steve albini che ha un approccio tutto suo e si sente nel risultato sostanzialmente cerca di ottenere il massimo possibile solamente dalla band tirandone fuori la vera essenza in sostanza ci confrontiamo con un prodotto che sicuramente non ha dei vocals registrati nella maniera più convenzionale i cori non sono maniacalmente intonati le chitarre sono acide e la batteria è in un ambiente tutto suo un suono davvero caratteristico che sentiamo fin dal primo secondo del disco alcune registrazioni vocali vennero fatte anche in posti assolutamente non convenzionali come ad esempio in bagno il bagno tipicamente non ha sicuramente il suono più adatto per un prodotto discografico in questo caso invece riesce a dare la giusta tangibilità e verità al suono prendendo ad esempio il brano tonis theme sentiamo delle voci a un minuto e trenta che sono in questa acustica proprio particolare strana con anche l'aggiunta di qualche riverbero al contrario che annuncia ogni frase questa cosa è davvero interessante in questa produzione troviamo anche il brano gigantic che per esempio non lo so a me pare di sentire già tutti i brani punk rock sulla scena mainstream dei primi anni 2000 ma qui siamo ancora nell 88 troviamo in questo disco anche il brano where is my mind un brano davvero caratteristico che è riuscito a farsi ricordare e memorizzare nella storia un brano che sfoggia un carattere dolce ma struggente mantenendo sempre quel carattere molto grezzo figlio della musica punk ma rendendolo un vero e proprio grido disperato come per molti altri quando ascoltiamo un disco dei pixies al giorno d'oggi soprattutto questo disco magari tendiamo a non sentire niente di particolare soprattutto se siamo giovani e non abbiamo vissuto quegli anni la verità è che loro hanno plasmato un vero e proprio modo di fare musica che è stato assorbito da così tanti artisti che oramai quel tipo di suono e quell'approccio è cosa normale provate a pensare a quale effetto può aver fatto un disco del genere su un giovane corcobain infatti parlando dei nirvana e del nascente movimento grunge caratterizzato da queste armonie sicuramente atipiche e come possiamo dire poco scolastiche già all'interno di questo disco dei pixies troviamo questo approccio che ancora una volta deriva invece dalla cultura punk non dico che gli accordi e i power chord siano messi a caso sul manico della chitarra ma poco ci manca saranno invece le melodie che riusciranno a creare una tessitura e dare una logica totale all'armonia di questi brani e quindi grazie a questo impatto fortissimo che ha avuto sulla musica rock alternativa e non solo che possiamo riconoscere in questo disco una pietra miliare un punto saldo nella storia della musica del novecento in particolar modo della musica rock quindi pixies surfer rosa tanta tanta roba ci vediamo la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti